cerca bentornati sul mio canale youtube ieri è uscito un nuovo aggiornamento su fc24 per la pressione il title update numero 7 che è andato a modificare delle cose un po a sorpresa visto che non si era minimamente parlato nell'ultimo periodo di aggiornamenti eppure appunto ce lo siamo ritrovati così dalla sera alla mattina oggi ci andiamo a leggere nel dettaglio tutta quella che è la patch notes andando a vedere punto per punto cosa è andata a trattare questo aggiornamento ma poi visto che ho avuto modo chiaramente di poter testare le effettive modifiche sul gameplay e sul gioco in generale vi faccio vedere dei begli esempi partiamo da quelle che sono le modifiche di ultimate team in generale ovvero nella sua stabilità innanzitutto ci viene detto che l'icona di notifica degli obiettivi non era sempre visibile dopo essere usciti e rientrati da ultimate team il menu poi delle squad battles spesso e volentieri non mostrava il timer per la competizione per cui ogni volta c'erano dei dubbi su quando finiva la competizione quando venivano dati premi la domenica si scatena sempre il panico alle nove perché non mi ha dato i premi quando vengono dati di solito sempre cinque minuti dopo adesso questo problema dovrebbe essere stato risolto rimosse le sostituzioni non necessarie da requisiti delle sfide creazione rosa a volte nei requisiti delle stesse erano presenti i nomi di club duplicati certi obiettivi non mostravano la loro data di scadenza a volte dopo aver riscattato un premio obiettivo l'icona di notifica continuava ad essere mostrata queste tre righe le ultime due e la prima riguardante gli obiettivi penso che erano una delle cose che attennava di più l'utente di fc24 perché ogni volta non sapevamo a dove verranno finiti gli obiettivi che dovevamo riscattare b puntualmente dopo una partita ci ritrovavamo quella notifica che rimaneva lì fissa e ci veniva sempre il dubbio che non avessimo riscattato qualcosa poi ci dicono che le aperture dei pacchetti oggetti stati in ultimate team producevano un'animazione indesiderata con un testo provvisorio aggiungerei anche che alcune di queste di solito non potevano essere schifate ma questo al momento non è stato risolto risolto poi anche un problema che poteva impattare sulla scelta degli oggetti giocatore evoluzione a volte l'icona degli notifica degli obiettivi non compariva dove previsto quindi un ulteriore problema circa gli obiettivi e poi interagendo con una rosa vuota potevano verificarsi problemi di stabilità quindi questo per quanto riguarda tutto il comparto di ultimate team per quello che concerne appunto menu piccoli bug all'interno di sfide creazioni rosa eccetera ma veniamo ovviamente a quella che è la parte che ci interessa di più ovvero la parte relativa al gameplay ci sono quattro punti fondamentali però secondo me questi sono relativamente importanti perché le modifiche più shot le vediamo successivamente ma comunque ridotta l'efficacia dei passaggi alti e dei passaggi alti di precisione eseguiti con angolazione estrema cosa si intende per passaggio alto per passaggio alto non si intende l'l1 triangolo filtrante ma il classico cross che voi fate con il quadrato o con il cerchio a seconda dei vostri tasti e ne viene ridotta la precisione e appunto l'efficacia anche in termini di potenza con la quale esce il passaggio qualora questi vengono effettuati sia nella versione normale sia in quella precision quindi andando a fare tasto del tiro a giro quindi r1 r2 e appunto tasto del cross con angolazioni estreme quindi se il giocatore sta tutto quanto storto di spalle al suo ricevitore viene migliorata poi la reattività dei passaggi di precisione richiesti per cui quando si va a fare un passaggio di precisione il classico r1 r2 più triangolo adesso c'è meno di lei tra l'animazione e quella che la nostra richiesta viene poi ridotta anche leggermente la potenziale velocità massima dei passaggi filtranti ad effetti raso terra e viene aumentata la potenziale altezza massima di passaggi alti e passaggi di precisione alti eseguiti con angolazioni estreme quindi si va a ricollegare al primo punto e in questo caso l'altezza aumenta andando poi a rendere più complicato e difficoltoso il controllo del pallone però poi sono stati risolti anche altri problemi e come vi dicevo in precedenza in realtà all'interno di questa sottocategoria perché loro ci hanno piazzato quei quattro punti come punti incredibilmente rivoluzionari secondo me troviamo un paio di chicche allora innanzitutto ci viene detto che un passaggio raso testa raso terra alle volte dava luogo ad animazioni indesiderate come poteva essere magari il passaggio con il piede che è trapassa il pallone eccetera eccetera in certe situazioni un passaggio filtrante poteva anche risultare poi più debole e meno preciso del previsto sarà capitato sicuramente un sacco di volte che volete dare la palla a uno e invece di darla in profondità la danno a quello vicino lente e debole anche prevedibile a volte poteva poi capitare che venisse contrastato erroneamente un giocatore avversario senza palla quindi io col difensore magari l'avversario passa il pallone di mezzo c'è un uomo faccio il contrasto invece di intercettare il pallone mi si tira una cartella sul poverino che sta passando provocando fallo migliorata la logica del cambio automatico per scegliere il difensore da controllare in occasione di certi passaggi filtranti morbidi quindi per tutti coloro che utilizzano lo switch su automatico quindi il cambio giocatore che fa la cpu adesso questo viene leggermente migliorato anche se comunque una cosa che io sconsiglio sempre migliorata la logica del cambio di giocatore con due o più utenti nella stessa squadra quindi quando fate magari le coop 2v2 adesso lo switch è molto più razionale e coerente migliorata poi in alcune situazioni specifiche la fattispecie nella quale un compagno controllato la cpu poteva tentare di controllare il pallone dopo che l'utente aveva richiesto un tiro migliorata la coerenza delle richieste di raddoppio di marcatura quando si controlla un solo giocatore io questo lo evidenzio lo sottolineo lo pinno e dico dio grazie perché al 17 gennaio forse riusciamo a risolvere uno dei problemi più grandi di fc 24 perché quest'anno il raddoppio era pressoché inutilizzabile quante volte ci sarà capitato di prendere magari il difensore centrale switchare col terzino per andare a coprire oppure chiamare poi il raddoppio e invece di prendere il difensore centrale che avevamo appena switchato ci prendeva tutt'altro stessa cosa magari volevamo mandare il raddoppio il terzino invece ci prendeva il difensore centrale quindi questo veramente huge massive cambiamento che ci voleva proprio ripeto ci hanno messo anche un po tanto in circostanze rare la fisica della palla non si comportava come previsto dopo aver colpito il palo in circostanze rare dopo una richiesta di passaggio il portatore di palla attraversava il pallone ne perdeva il possesso migliorata la logica degli albi nel chiamare il fuorigioco sulle deviazioni e ti dirò qua non muo devi migliorare è un gioco è una chiamata arbitrale mi devi dare la certezza che il regolamento venga applicato correttamente ma va bene risolti problemi con varie prove abilità che riguardavano aree come i progressi e la costanza quindi questo per quando vi mettete un po a provare le cose per migliorare poi ci sono stati una serie di cambiamenti per quanto riguarda volta football che ci interessano relativamente un'altra cosa interessante è che se sono stati aggiunti e aggiornati un totale di 90 volti che saranno disponibili dopo un aggiornamento server poi qui ci sono questi ultimi piccoli problemini ancora una volta magari per quanto riguarda la telecamera battendo un calcio d'angolo corto a volte i giocatori passavano attraverso il camera man migliorata la transizione tra animazione tiro e risultanze dei giocatori problemi di stabilità eccetera eccetera quindi detto questo io direi che ci andiamo a vedere in effetti soprattutto per quanto riguarda il gameplay se quanto detto trova un riscontro prima di vedere qualcosa di gameplay vi volevo far vedere al volo la questione degli obiettivi perché magari qualcuno potrebbe vederla ancora buggata in realtà a metà nel senso che quando loggate per la prima volta su foot diciamo che vi droppa una notifica là sopra un po casuale perché come potete ben vedere a me adesso dice 7 però se vado nelle varie tab ho tutto quanto riscattato quando infatti poi uscite il problema è risolto quindi diciamo che è risolto a metà la prima volta che entrate lo continuate a vedere però basta che entrate in obiettivi tornate indietro e il problema svanisce almeno per il momento così hanno messo una prima pezza andiamo a vedere adesso se effettivamente il gameplay è stato modificato come ci dicono e analizziamo subito questo cross io rende tutto quanto storto che in effetti diventa una cioveca e cruifo l'intercetta e ben importa proseguiamo con quest'altro di van dyke che fa un altro orribile cambio di gioco che arriva sui piedi di io rende solo perché non c'è nessuno per andare lì a dare fastidio carlos alberto invece orientato verso roberto carlos vedete fa un normalissimo cambio di gioco ancora guardate robicarlos tutto quanto storto fa questa traiettoria molto morbida che per poco non viene intercettata di orente stesso cross dall'altra parte giusto perché c'è il playstyle viene leggermente meno brutto però avete visto come ancora una volta roberto carlos era in difficoltà nel controllare e poi ancora una volta roberto carlos nell'andrà a ricambiare gioco stavolta si va a intercettare il pallone e questo è molto comodo perché in un gioco dove bastava praticamente cambiare fascia un paio di volte per ritrovarsi liberi almeno adesso si viene a di rendere un po più difficoltosa questa fatti specie di giocatore tutto strano e soprattutto quando riusciamo a prestare il nostro avversario ci dà dei frutti perché così non se ne riesce ad uscire troppo facilmente da quelle situazioni di incorgo sulla questione raddoppio sinceramente ragazzi miei hanno proprio gasato perché come vi dicevo già prima nell'analisi della lettura della patch quella era la cosa che più mi gasava e in effetti sono stati bravi perché il raddoppio adesso è molto più coerente ed è come l'anno scorso quindi se io vado a schiacciare il tasto per mandare in pressione un giocatore in linea di massima mi va a mandare l'ultimo giocatore che ho switchato quindi guardate qui io adesso il controllo con la puteglias perché ho l'indicatore rosso il mio giocatore controllato e la puteglias dopodiché che cosa faccio vado a switchare su robbie carlos e guardate qui che l'indicatore del raddoppio che si va ad illuminare è giustamente quello della puteglias perché è stata l'ultima giocatrice che io ho controllato e quindi mi va in raddoppio l'azione poi prosegue guardate qui io mi switcho van dyke per coprirmi quest'uomo qui e mando in da raddoppio bobby carlos che quindi va a coprire il portatore di palla cosa che prima non accadeva perché in questa situazione andando a prendere van dyke poteva capitare che mi mandava in raddoppio persino l'altro difensore creandomi in buco al centro o alla buona buona ti mandava in raddoppio la puteglias ma ve lo scordavate che mandava in raddoppio roberto carlos infatti qua guardate l'azione continua io grazie al raddoppio di bobby carlos che mi ha seguito il suo giocatore recupero il pallone e me ne posso ripartire quindi questo qua top class hanno veramente migliorato una cosa che era fondamentale ragazzoni anche per questo video è tutto come al solito vi ricordo di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di questa pace se effettivamente avete riscontrato delle differenze all'interno del gioco vi ricordo che sono poi in live tutti i giorni sulla piattaforma viola dalla mattina più o meno fino al primo pomeriggio ecco detto questo io vi auguro una buona giornata un saluto nel vostro liberoschi e a presto ciao ciao